La scia luminosa apparsa per qualche secondo nei cieli dell'Italia meridionale è quella di un meteorite che la sera del 15 marzo sarebbe caduto in Molise, in località Temennotte di Sant'Agapito per la precisione. Le immagini che vedete riprese da Roma e proposte dal Tg.com e in effetti la notizia rimbalzata sui social come l'incandescente materiale extraterrestre ha acceso i riflettori dei media nazionali sul paesino alle porte di Sernia con il sindaco Giuseppe Di Pilla lì a manifestare tutto lo stupore e l'incredulità per l'accaduto. In realtà, dello straordinario evento, nessuno si è minimamente accorto da quelle parti. Eppure i ricercatori di Rete Prisma, coordinati dall'Istituto Nazionale di Astrofisica, sulla base della triangolazione delle camere, quella di capo alla più vicina, hanno stimato che il piccolo corpo celeste è entrato in atmosfera a una quota di circa 80 km e ha proseguito per una lunghezza totale di 61 km, percorsi in poco più di 5 secondi, ad una velocità di circa 50.000 km all'ora. L'area particolare è quella che va appunto da Temmennotte nelle vicinanze del torrente Lorda e che si espande sino alla statale 85 di fronte, diciamo, nella zona della motorizzazione. Da domani dovrebbero iniziare le ricerche perché scendono giù da Torino alcuni esperti con delle attrezzature particolari dove comunque hanno chiesto anche all'amministrazione comunale di avere una sete logistica dove poter poi sviluppare tutte le loro ricerche e abbiamo pensato appunto di mettere a disposizione una scuola proprio nella località Temmennotte. L'estremo valore del meteorite legato al fatto che si tratta di materiale primordiale risalente alla formazione del nostro sistema planetario circa 4,5 miliardi di anni fa. Potrebbe raccontarci molto sull'origine del sistema solare, affermano gli scienziati. Intanto il sindaco di Pilla, interpellato ancora dai media nazionali, commentava per il nostro territorio sarebbe una manna dal cielo, pure in termini di turismo. Potremmo esporlo nello splendido museo del Paleolitico, il sogno del primo cittadino sul frammento spaziale. Intanto bisognerà trovarlo. Con una massa stimata di circa un chilogrammo, il meteorite caduto in Molise dovrebbe avere dimensioni non superiori agli 8 centimetri che le ricerche abbiano inizio.